Sono disposto a scommettere che nessuno di voi ha mai visto un'anaconda, ma sono anche disposto a scommettere che nessuno di voi ne metterebbe mai in dubbio l'esistenza. Eppure ne avrete al massimo sentito parlare, l'avrete vista in televisione, ne avrete letto su qualche giornale, ma nessuno di voi l'avrà mai toccato vista dal vivo. Ma nonostante questo, per voi l'anaconda esiste. Questo avviene perché nessuno di noi ha un'esperienza diretta con tutta la propria realtà. La nostra idea di realtà è mediata dai mezzi di comunicazione e dai mezzi di informazione, partendo dai libri che abbiamo letto a scuola, dai libri che leggiamo tutt'ora, per arrivare ai media di massa, alla tv, alla radio, alla stampa e anche al passaparola. È sempre stato così. La nostra realtà si crea ogni giorno in questo modo, con la differenza che oggi la comunità e la comunicazione passa quasi tutta attraverso lo smartphone. Per cui, se volete esistere con la vostra azienda, se volete che la verità della vostra offerta e del vostro brand o del vostro prodotto diventino reali per le persone che volete raggiungere, è necessario che siate presenti sui canali digitali, per presidiare le zone frequentate dalle vostre buyer persona. Solo in questo modo inizierete a esistere, anche per le persone che non vi hanno mai conosciuto in modo diretto o avranno mai avuto esperienza diretta del vostro marchio o dei vostri prodotti. Inizierete a esistere, come anche se nessuno probabilmente l'ha mai vista di persona, in modo diretto, esiste l'anaconda.